nel 1990 mentre io in italia giovane di belle speranze si ammazzava di bombe in attesa dell'estate per continuare ad ammazzarsi di bombe in iraq saddam hussein non se la passava per niente bene anzi direi che proprio era con la merda fino al collo otto anni di guerra con l'iran gli avevano completamente prosciugato le casse ora doveva cash a mezzo mondo sia gli stati arabi confinanti arabia kuwait sia altre nazioni quale russia stati uniti francia giappone mancavano solo sti cazzi e mia zia e la lista era completa inoltre le quote di produzione del greggio stabilite dall'opec che in quel periodo venivano bellamente sforate da paesi quali kuwait e l'arabia solita ciò faceva scendere il prezzo del greggio e per il nostro amico saddam e significava altra merda inoltre saddam aveva chiesto la cancellazione alle stati vicini la cancellazione dei debiti di guerra ma in arabia saudita e kuwait e gli ridono bellamente in faccia e pigliare per il culo uno spostato come con le spalle al muro come era saddam in quel periodo un ideona ora saddam si domanda dove lo trovo tutto questo cash c'è un'economia che fa schifo però ho un esercito di un milione di uomini che possono diventare due che si fa un ideona invadiamo il kuwait ci pappiamo al loro petrolio che insieme al nostro fa il 20 per cento della produzione mondiale e risolviamo tutti i nostri problemi sì ma non è che puoi invadere uno stato sovrano così dall'oggi al domani la guerra ha bisogno di una a una sua prassi a una sua prassi consolidata nella storia che si fa un ideona allora dobbiamo far pensare che noi comunque vogliamo del trattadire e vogliamo la pace intanto ammassiamo troppe sul confine allora li contestiamo qualche pozzo di petrolio sul sul confine e li diciamo che ci hanno fottuto due miliardi di greggio in più gli diciamo che noi mentre siamo impegnati per conto dell'occidente nell'arginare la guerra l'arginare fondamentalismo arabo il kuwait cospira sotto banco per portarci via pezzi di territorio a noi cari oltretutto a eccolo qua finalmente la prassi seguita il casus belli non esiste invasione senza un casus belli cioè fai la figura dello straccione e lo scappato di casa e comunque studiando la storia visto che è una cosa che si ripete sempre la prima domanda che che mi viene in mente ma ogni volta ci provano ma pensate che siamo fessi capito vabbè lasciamo stare canzica visto che qua si racconta la storia male chiaramente questo annuncio deve essere male se i contenuti vi sono piaciuti e iscrivetevi a sto canale è gratis mi aiuta il kuwait ci casca in pieno e non ritiene saddam una seria minaccia allora un milione di uomini di esercito non è una serie minaccia e lo prendi pure per il culo ma che cazzo c'è in testa la lega araba intanto manda il presidente egiziano bubarak a cercare di intavolare le trattative con saddam per cercare di chiudere in maniera pacifica la situazione bubarak se ne torna a casa bello felice contento e convinto del fatto che saddam non avrebbe invaso kuwait motivo che l'aveva detto lo stesso saddam monaco 38 chamberlain qualche analogia intanto 40.000 soldati dalla guardia irachena si ammassano sul confine il kuwaitiano ora entrono in campo anche indovinato equipa papà pipa gli stati uniti che mandano un ambasciatore genere donna la signora glaspie ora in un contesto del genere mandi una donna a trattare con un uomo un'altra un ideona e anche qua la signora glaspie se ne torna a casa bella contenta bella felice andrà pure in vacanza convinta che saddam non non l'avrebbe invaso il kuwait motivo sempre saddam gli ha promesso che non l'avrebbe fatto non c'è un chamberlain senza un secondo chamberlain molti storici visto che la glaspie non ha menzionato nella conversazione con saddam un intervento militare americano e voltatutto saddam era anche un amico degli stati uniti in visione della guerra contro il fondamentalismo arabo abbia dato inconsciamente semafero verde a saddam per l'invasione del kuwait o quantomeno non abbia mostrato rosso e intanto altri 100.000 uomini dell'esercito iracheno si ammassano sul confine col kuwait semplice gli iracheni chiedono al kuwait 20 miliardi di dollari di risarcimento il kuwait gliene offre 9 saddam non la piglia per un cazzo bene anche se il 4 di agosto continueranno le trattative oramai i giochi erano fatti alle ore 11 del 2 di agosto del 1990 100.000 soldati iracheni appoggiati a 2.000 carri invadono il kuwait per gli iracheni è praticamente una scampagnata una gita fuori porta le truppe della guardia repubblicana guidano l'attacco verso kuwait city intanto svariati gruppi e li trasportati di soldati iracheni occupano i centri nevragici del paese la famiglia reale fugge in arabia saudita allora prima li pigli per il culo poi li sottovaluti ma che cazzo c'è in testa dopo 12 ore tutto era finito era stato breve ma saddam ha goduto come un riccio al pensiero di tutto quel petrolio a livello internazionale dopo le rassicuranti parole sulle intenzioni di saddam c'è completa sorpresa in sostanza li hanno colti con le braghe calate perché ce l'avevi promesso poi visto le figure da babbei che ha fatto la diplomazia locale oramai una soluzione appunto locale e pacifica alla crisi era praticamente una chimiera una fantasia una che solo l'SDT può dare ora si mettono in moto anche le nazioni unite con la risoluzione 660 che condanna l'invasione del kuwait da parte di iraq e successivamente la risoluzione 661 che pone il 15 di gennaio del 1991 come termine ultimo per il tiro delle truppe irachene dal kuwait allora ora lo ssm deve convincere i sauditi a cedere il loro territorio come base per le operazioni aeree terrestre della coalizione e come convincere un musulmano a fare entrare in casa propria qualche centinaio di migliaio di cristiani che si fa semplice i servizi intelligence americani mostrano ai sauditi delle foto satellitari in cui si vedono ammassamenti di truppe irachene al confini con la roba sedita tanto basta fatto un po come cazzo vi pare che poi saddam volesse effettivamente invadere l'arabia saudita la risposta navale della coalizione fu sicuramente quella più rapida intanto erano presenti sul teatro delle operazioni già otto navi della task force middle est americana che erano pronte ad accogliere due portaerei con i relativi gruppi di battaglia l'eisenhower e l'independence le navi immobilitate per la risposta rapida erano suddivise in tre squadroni ogni squadrone poteva trasportare un meb 16.000 marines con i relativi carri ed aerei l'otto di agosto viene ordinato e venne ordinate le squadroni di andare in appoggio ai meb 7 e 1 che erano appena sbarcati in arabia saudita circa sette giorni dopo arrivano le prime navi altri dieci giorni e praticamente il meb 7 composto da 13.000 marines 123 carri e 124 aerei è completamente operativo sul suolo dell'arabia saudita della serie non scassare il cazzo la di osm anche se sei sulla luna e stiazzi anche se il grosso era americano la collezione comprende vassetti di me li sono scritti perché a memoria non riesco a ricordarli tutti e oramai sono vecchio bacucco argentina australia belgio danimarca canada francia grecia italia paesi bassi norvegia portogallo arabia turchia e spagna e stiazzi intanto negli stati uniti i cervelloni di centcom con a capo norman schwarzkoff si sarebbero occupati di pianificare e organizzare le operazioni in centcom a causa del crollo del muro di berlino non è che ci fosse molto da fare e allora in precedenza avevano deciso di spendere un po di soldi dei contribuenti ipotizzando e pianificazione pianificando delle operazioni difensive in medio oriente in arabia saudita ora quei piani con i debiti aggiustamenti sarebbero stati utilizzati per le operazioni in kuwait e questo avrebbe accorciato di molto i tempi di risposta americani in quel periodo il pensiero strategico dello zio sam era quello di una completa integrazione dell'arma aerea con le forze navali e le forze terrestri e ci tenevano e anche apparecchia sta cosa infatti il generale di brigata dallas che in un'intervista dichiara che le forze aeree americane sarebbero state in grado da sole di risolvere la situazione in kuwait tempo 5 minuti di orologio e cinei l'ho licenza in tronco ora tutto questo popò di roba va coordinato a to a to a to air tasking orders il generale di brigata glossom e la sua kumpa avrebbero fatto proprio quello dal loro centro operativo ribattezzato the black hole comunque senza di loro gli attacchi in iraq si sarebbero risolti una serie di attacchi scoordinati e disorganizzati in sostanza divisero lo spazio aereo iracheno in quadrati di 48 chilometri per lato e organizzare una cadenza giornaliera tutti il decollo lo sgancio delle bombe l'atterraggio di tutta quel popò di flotta aerea una montagna di merda e gli iracheni come stanno messi visto che li sta per arrivare addosso una montagna di merda dello zio sam la forza era irachene come numeri non sono messi male ma avrebbero qualche chance solo se si combattesse nel 1970 ora era come mandare il triplano focker del barone rosso contro un f16 morte certa inoltre gli iracheni si che avevano speso molto per l'acquisto di mezzi ma l'avevano fatto senza un minimo di pianificazione era come una massaia che andava al supermercato che va al supermercato e comincia a acquistare tutto quello che in offerta a prescindere di cosa sia mirage f1 mig 21 mig 29 su coi 7 20 22 che più ne ha più ne metta inoltre oltre essere un parco mezzi vecchio utilizzavano delle tattiche che erano ancora più vecchie tutto vecchio il generale pic ad esempio dichiarò che pensava che gli iracheni sostanzialmente se la siano giocata bene visto le condizioni ma era come se avessero avuto la seconda mano a poker in sostanza essere la seconda forza sul campo era come avere la seconda mano a poker era meglio lasciare la campagna aerea si svilupperà in tre fasi la prima fase contro obiettivi strategici infrastrutture centri comando logistica la seconda fase contro le difese contraere irachene e infine la terza fase contro le truppe di terra circa 24 ore dopo lo scadere dell'ultimantum fissato dall'onu con la risoluzione 661 alle 3 del mattino del 17 gennaio del 1991 parte l'operazione desert storm una delle operazioni militari tecnologicamente più sofisticate della storia l'esercito apre le danze con la task force normandy composta da 9 elicotteri apaci e tre elicotteri pavlov che si dirigono sui loro obiettivi che sono alcuni siti di pre allerta radar situati nell'ovest dell'iraq i siti vengono completamente disintegrati una pioggia di missili al fire hydra e granate da 30 mm li distrugge completamente ma bagdad viene comunque allertata e avvisata dell'attacco quindi l'attacco che doveva evitare l'allarme preventivo è quello che causa l'allarme preventivo un ideona un ideona l'f-117 night hawk è un aereo rivoluzionario in sostanza alcuni ingegneri hanno chiesto un computer di creare una forma che possa trasportare più o meno 2000 kg di bombe con la più bassa e piccola traccia radar possibile poi a farla volare ci pensiamo noi ne esce sta marron stoccoso il diamante senza speranza l'hanno ribattezzato i collaudatori la prima volta che l'hanno visto pensavano fosse uno scherzo comunque gli americani con un bordello di soldi dei contribuenti riescono comunque a farlo volare e si ritrovano con un sistema d'arma che è in grado di penetrare in profondità le difese aeree nemiche e con minimi rischi di essere intercettato dai radar infatti è l'unico aereo con equipaggio che sorvola i cieli di bagdad il primo giorno delle operazioni il suo colpo più famoso fu quello sulla torre delle comunicazioni di bagdad visto che quella torre da quella torre trasmettevano anche la cnn l'interruzione del suo segnale sarebbe stato stato il segnale del successo delle operazioni e infatti alle 3 del mattino il commento dello speaker viene interrotto e sostituito da un fermo immagine la torre delle comunicazioni di bagdad non c'era più e ora parliamo dei ferri ma i ferri pesanti il 16 di gennaio 7b 52 partono dalla loro base in louisiana dopo 15 ore di volo sganciano 35 missili cruise sui loro obiettivi e se ne tornano bellamente a casa sono 22 mila chilometri di viaggio per 35 ore di volo una delle più lunghe o la più lunga missione di bombardamento della storia intanto altri partono dalle basi nell'oceano indiano da garcia ed effettuano dei bombardamenti a tappeto sulle truppe rachene vi assicuro che subire gli effetti di un bombardamento di quel tipo allora innanzitutto bisogna vedere se rimane in vivo e secondariamente rimane talmente rintronato ma talmente rintronato tipo nella prima notte di ride gli americani presentano al mondo il nuovo missile tomahawk ha un motore grosso come un cesto da pallacanestro una velocità di circa 500 nodi è in grado di volare a quote bassissime e colpire gli obiettivi con inedita precisione costo un milione duecentomila dollari ne vengono lanciati la prima notte 122 in totale per tutta la campagna 300 per un costo di 360 milioni di dollari e stiazzi la coalizione per le proprie missioni ha a disposizione una fottia di differenti tipi di aerei f111 f16 f18 tornado mirage chi più ne ha più ne metta il primo giorno di operazioni sono presenti sui cieli dell'iran del coet circa 700 aeree il tutto è coordinato dagli e3 a hawaks l'aureonautica militare irachena invece praticamente sta a guardare se manda degli aerei se fa decollare degli aerei o gli vengono abbattuti o riparano in iran invece la temutissima difesa contraerea irachena praticamente è un fiasco inennarrabile delle migliaia di missili terrari assam che vengono vengono lanciati solo vengono abbattuti solo dieci aerei della coalizione 13 invece hanno abbattuti grazie ai terrari assam ad infrarossi e 9 vengono abbattuti dalla contraerea tradizionale praticamente il peggior nemico della della coalizione fu il maltempo che influenzò negativamente più del 50 per cento delle missioni le portaerei del 1 ottobre vengare alla campagna aerea della coalizione la gamma di aerei che potevano lanciare impressionante vi erano ad esempio gli f14 che erano le caccia più tecnologicamente avanzati del momento poi vi erano anche gli f18 allora seguiamo la missione di f18 che partono dalla portaerei e stanno per eseguire una missione di attacco al suolo a un certo momento vengono avvertati che a 24 km di distanza ci sono due mig che li vengono incontro per intercettarli i piloti dell'f18 tranquillamente switchano il loro radar dalla modalità aria a terra alla modalità aria aria sparano due side winder e uno sparrow e abbattono i nemici il tempo che intercorre tra l'individuazione nemici e loro abbattimento neanche minuto tempo stimato di sopravvivenza gatto in tangenziale anche tra le fede della coalizione era in agguato un ideona un ideona i britannici utilizzarono per attaccare degli aeroporti del tornado e lo fecero con attacchi a bassa quota 60 metri sì gli attacchi risultarono comunque efficaci ma le perdite furono troppo pesanti circa il 26 per cento delle perdite totali della coalizione in sei giorni cinque aerei e sapete quanto costa tenere addestrato un pilota e addestrarlo tanto ma tanto ma tanto i motivi erano che praticamente utilizzavano delle tattiche che erano pensati per il suolo europeo poi oltretutto ma che bisogno c'è riattaccare a bassa quota quando la capacità radar dell'iraq è stata completamente agnettata infatti poi decisero di effettuare dei bombardamenti alla medio quota diminuire i rischi anche se comunque diminuire l'efficacia dei bombardamenti la cosa si risorse quando furono inviati 8 aerei bucagnare per la disegnazione degli obiettivi a quel punto è tornato fecero valere fecero vedere il loro valore allora siamo al 20 gennaio sono passati appena tre giorni dalle operazioni ea collezione fa già come cazzo li pare infatti quel giorno tra elicotteri linix della marina abilitare britannica individuano un dragamino iracheno che si fa lo affondiamo con un bel sia scua e ci togliamo pensiero subito ma no dai che cazzo facciamo in maniera più fico facciamo un bel abbordaggio detto fatto cioè sei nelle condizioni di avere una superiorità talmente manifesta che ti puoi anche permettere di decidere come accoppare il nemico e stiazzi nel complesso i primi giorni della di operazioni aeree alleate sono per l'iraq una mazzata inenarrabile e se la banfano pure perché dichiarano 200 aerei della collezione abbattuti i dati dicono in 11 giorni venti del parte la collezione in 11 giorni 22 mila missioni e il ratio di perdite dello 0,025 per cento il 28 di gennaio praticamente l'aviazione irachene non esiste più tempo stimato di sopravvivenza gatto in tangenziale i mig 29 che erano considerati gli aerei più pericolosi in mano agli iracheni in cinque giorni gliela abbattono cinque l'unica grana reale grana per la forza aerea della collezione sostanzialmente sono stati i missili scud che potevano creare problemi più 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 politici che militari infatti furono lanciati anche su israele che se fosse intervinto avrebbe potuto incasinare la coalizione ora l'aviazione dopo aver terminato il lavoretto strategico può dedicarsi ai lavoretti tattici in vista delle future operazioni di terra la guerra in mare fu poca cosa se l'aeronautica militare irachena era robetta la marina era veramente niente vi erano anche comunque delle ragioni di carattere geografico tutto si risolve il 29 di gennaio quando si al giorno del grande tiro al tacchino di boobian gli americani grandissimi sempre con i nomi il grande tiro al tacchino delle marianne dove praticamente viene intercettato un convoglio di navi irachene vengono affondate 20 solo due si salvano da quel momento lì in poi la marina irachena cessa di esistere l'offensiva di terra parte alla mattina alle 4 del 24 di febbraio del 1991 le truppe aviotrasportate guidano attacco la sesta coranzata leggera francese la centunesima divisione aviotrasportata americana vogliono fare gli sborroni e prendono con un assalto e ritrasportato lo strategico punto di cobra che servirà come base logistica avanzata entro fine giornata il diciottesimo corpo aveva stabilizzato truppe fino a 273 chilometri all'interno del territorio iracheno il giorno successivo la ventiquattresima divisione meccanicizzata percorre fino a 135 chilometri all'interno del territorio iracheno e disintegra due divisioni irachene e si prepara ad attaccare la guardia ripubblicana visto che l'esercito iracheno si scioglieva come una melusa sole l'attacco del settimo corpo fu anticipato di 24 ore con 150 mila uomini e 400 carri il suo compito era quello di fare il culo alla guardia ripubblicana e bloccare restanti forze irachene in kuwait la joint force nord procedeva lentamente ma procedeva il corpo dei marines invece era quello che aveva un po più di difficoltà la prima e la seconda divisione marines subiscono un contrattacco da parte degli iracheni oltretutto non si vede un cazzo perché gli iracheni hanno dato fuoco ai pozzi di petrolio sulla costa la joint force est procede verso kuwait city un problema comune a tutti i corpi in avanzata è quello de ma quanti cazzo di iracheni che si arrendono e dove minchia li mettiamo sarà un bel enigma dal punto di vista logistico gestire tutta questa massa di soldati iracheni che si arrendono ora dopo due giorni di combattimenti il fronte del diciottesimo corpo e quello del settimo corpo sono allineati la ventiquattresima divisione meccanicizzata e il terzo reggimento di cavalleria si muovono verso est per bloccare la via di fuga gli iracheni invece per il settimo corpo le cose cominciano a farsi più incasinate cominciano a incontrare i primi elementi della guardia repubblicana e quelli col cazzo che si arrendono avranno a che fare con divisioni della guardia repubblicana quali la murabi la madina e la tawakalna la prima divisione corazzata e la terza divisione corazzata si occuperanno della divisione tawakalna gli scontri saranno molto più aspetti che in precedenza anche a causa della scarsa visibilità e del fatto che gli iracheni avevano scelto buone postazioni difensive comunque la mattina del 27 la tawakalna non esiste più poco più a sud il secondo reggimento di cavalleria ha a che fare con la larga formazione di carri iracheni e anche qua dopo quattro ore di combattimenti gli iracheni sono completamente devastati e non sono più un problema poco più a sud gli inglesi hanno a che fare con la 52esima divisione corazzata irachene e anche qua nel giro di quattro ore non sono più un problema la prima divisione marinse raggiunge l'aeroporto di kuwait city e il giorno successivo il 27 lo occupa la seconda divisione marinse insieme alla brigata tiger prendono il mutra bridge dopo cazzutissimi combattimenti contro la terza e la quinta divisione corazzata irachena la centunesima invece alla centunesima dagli un punto sulla mappa e vai tranquillo che loro ci arrivano occupa viper che diventerà un'altra base logistica operativa avanzata il joint force ist raggiunge kuwait city ora la coalizione deve occuparsi di quel che rimane della guardia repubblicana come alfa amurabi impronunciabile leggetelo voi e madina elementi della formazione madina prepararono un'imboscata per la prima divisione corazzata americana ma gli americani li sgamano subito e con un potente tiro d'artilleria e sfruttando la maggior portata dei cannoni montati sui propri carri fanno letteralmente una strage 300 carri distrutti e per le perdite invece della coalizione due carri di cui uno è fuoco amico praticamente il 27 la guerra in kuwait è conclusa il giorno dopo la coalizione decide di sospendere le operazioni per saddam la campagna della coalizione in kuwait fu letteralmente un calcio nei coglioni le perdite irachene non si conoscono sicuramente la coalizione ha distrutto 3.700 carri iracheni e ha catturato circa 175 mila soldati iracheni la componente aerea con 110 mila missioni e 90 mila tonnellate di bombe sganciate avrà un ruolo fondamentale nella buona riuscita delle operazioni in complesso comunque per la coalizione è stata diciamocela tutta quasi un'esercitazione visto il tono cazzaro con cui affrontato il l'argomento di questo doc volevo chiudere un po più in maniera un po più seria visto che comunque alla fine la guerra è una cosa terribile e sanguinosa desert storm per quanto possa esser sembrato una campagna rapida veloce e indolore le perdite all'interno della coalizione si parla di 150 morti e per quanto la coalizione si sforzasse di presentare al mondo le proprie smart bomb che effettivamente minimizzano i danni collaterali ma non li eliminano la coalizione però evitava di dire che solo il 10 per cento delle 90 mila tonnellate di bombe sganciate durante la campagna erano intelligenti stime parlano di 2.500 morti fra i civili iracheni e 6.000 feriti l'incidente più importante fu quello del 13 febbraio quando un ordigno colpì un bunker che si pensava fosse adibito a centro comando invece all'interno non è presente 200 civili iracheni che furono polarizzate all'istante anche fa i coscritti nell'esercito iracheno non è che se la passassero meglio vi sono testimonianze che parlano di soldati iracheni a cui avevano reciso i tendini di achille per farli stare sul posto e continuare a combattere e non scappare invece vi furono all'estime parlano di 2.000 civili coetane morti è un numero non ben precisato di civili che furono coattamente trasferiti in iraq la guerra non è mai una cosa pulita è grattis musica 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 musica